Non si fermano nemmeno nel fine settimana le ricerche del cittadino russo Dmitry Kurdumanov, il 50enne, residente con moglie e tre figli, nella zona Castello di Sant'Andrea, Cupra Marittima, e scomparso da casa da martedì scorso. La task force, formata da vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, polizia locale, protezione civile e altri volontari, coordinati dalla prefettura di Ascoli Piceno, continuerà a cercare l'uomo che si è allontanato volontariamente. La moglie avrebbe infatti trovato in garage alcuni appunti che, secondo gli investigatori, non prometterebbero nulla di buono. Scandaliate le zone più imperviene ed intorni di casa, dove era stato ripreso da una telecamera mentre scendeva a piedi verso mare, le ricerche si erano poi spostate al lago di Gerosa, un luogo molto amato dal 50enne, ma anche quelle sono state senza esito. Ora si torna a battere i sentieri attorno al Castello di Sant'Andrea, ma anche la fascia costiera, fino alle colline di Ripa Tranzone, dove era solito fare delle escursioni. L'uomo è uscito di casa di giorno con abiti sportivi, una felpa verdone con cappuccio, tuta e scarpe da tennis, senza telefono né documenti, solo con uno zaino. Dopo aver diramato la sua foto, sono arrivate alcune segnalazioni, anche da pedaso nel vicino Fermano, ma ora le forze dell'ordine stanno incrociando questi dati con le telecamere di videosorveglianza della zona. Dopo il vertice in prefettura da Scolipiceno, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Benedetto ha preso parte all'ultima riunione operativa a Cupra Marittima, dove insiste l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo appena finito un incontro con tutti gli attori del piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo individuato nuovi percorsi da seguire e le ricerche continueranno con la massima attenzione.